Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. È in arrivo un questionario IMSS per circa 300.000 utenti. Vediamo di cosa si tratta e a cosa serve. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Dicevamo dunque che è in arrivo un nuovo questionario dell'IMS. Lo ha comunicato direttamente l'istituto attraverso il messaggio numero 1405 del 2 aprile 2021 con il quale ha fatto chiarezza su quali saranno i destinatari e sullo scopo del sondaggio. Nei prossimi giorni dunque circa 300.000 pensionati riceveranno dall'IMS un link con le domande a cui rispondere. Si tratta di una campagna di rilevazione delle performance dei propri servizi sui quali l'IMS ha deciso di chiedere un parere direttamente ai pensionati. Sarà molto importante rispondere a questo questionario in quanto in base alle risposte date dagli utenti l'IMS potrà migliorare la qualità dei propri servizi di accesso alle prestazioni pensionistiche. Il questionario verrà inviato a partire dal 6 aprile 2021. Nello specifico coinvolgerà coloro che percepiscono i seguenti trattamenti pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione quota 100, pensione in regime di cumulo, pensione in regime di totalizzazione. Il sondaggio IMS sulle pensioni è previsto anche dalla normativa. Infatti l'articolo 13,2 del decreto legislativo 74 del 2017 punta a un rafforzamento del ruolo dei cittadini nel ciclo di gestione della performance. Ovviamente rispondere al sondaggio non è un obbligo quindi non ci sono conseguenze per chi decida di non rispondere a tale questionario. La rivelazione sarà effettuata da Customer Experience in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con Formeds PA. I risultati di questo questionario di gradimento saranno poi resi noti dall'IMS e soprattutto saranno utili all'istituto per capire come migliorare ed evolvere i propri servizi. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.